eccoci allora tutto rigorosamente in diretta controlliamo che il microfono ci sia ecco ringrazio ancora di cuore il nostro amico nicola spada franca cambiamo argomento ci spostiamo a milano perché questa mattina vogliamo parlare del festival delle abilità perché inclusione è una parola magica quando esiste svanisce e allora se volessimo riassumere questo festival dal 14 al 22 settembre sceglieremo due parole energia e partecipazione ne parliamo questa mattina con il suo direttore artistico vlad scolari in collegamento con noi buongiorno benvenuto buongiorno ben trovati grazie per aver accolto il nostro invito a volte queste dirette sono una catena di montaggio si finisce con un ospite si comincia con un altro però insomma siamo contenti poter di poter parlare del festival delle abilità nato quando e con quale finalità vlad allora questa noi siamo arrivati alla quinta edizione io ho iniziato a partecipare nel 2020 nell'anno del covid fu uno dei pochissimi se non il solo festival approvato in quel periodo in quel settembre di quell'anno così particolare e ho accettato subito di partecipare per un semplice motivo la missione è questa rendiamo l'arte accessibile ecco lei ha detto già tre parole meravigliose energia e inclusione e ne aggiungo una terza accessibilità accessibilità sensoriale linguistica combattere contro le barriere architettoniche per rendere l'arte c'è un bene di tutti e che unisce tutti e che include tutti renderla fruibile accessibile a chiunque e veramente a chiunque questa è la missione di questo di questo festival oltre che creare unendo artisti con e senza disabilità un pubblico sempre più eterogeneo la disabilità non appartiene soltanto a chi la vive in primo seconda persona ma appartiene a tutti noi e ne dobbiamo parlare dobbiamo affrontare quelli che sono i problemi per risolverli chiaramente certo un molto bello quello che tu dici un festival appunto in cui a farla in cui ci sono queste bellissime parole che in qualche modo appunto accessibilità energia partecipazione inclusione che poi davvero diventano realtà è un festival che però non si esaurisce in questi giorni dal 14 al 22 settembre ma immagino che sia un progetto che dura che deve durare tutto l'anno lad 365 giorni l'anno sempre tutti i giorni dobbiamo parlare di questi argomenti e batterci di questi argomenti tutto l'anno e questo è lo scopo che ci eravamo prefissati anni fa quando abbiamo iniziato renderlo sempre più diffuso nel tempo e nello spazio infatti quest'anno siamo anche in altre zone di milano oltre alla nostra solita e partiamo si ampliano sempre di più i giorni e speriamo di avere eventi sempre di più durante tutto l'anno per parlare e per far conoscere anche artisti con disabilità o per tradurre ad esempio non lo so ad esempio tutti i nostri spettacoli incontri sono tradotti in lingua italiana dei segni per renderla veramente accessibile a chiunque e quest'anno appunto abbiamo aumentato i giorni ci siamo espansi all'interno delle città avendo anche delle collaborazioni importanti quindi unendoci un'altra cosa fondamentale è unirsi ad altre realtà e fare forza e fare rete insieme per questo stiamo vedendo alcune immagini di repertorio delle edizioni degli anni passati senza far torto a nessuno Vlad vogliamo dare qualche il programma è molto fitto molto ricco però giusto dare qualche indicazione su qualche appuntamento da non perdere certamente appunto non vorrei escludere nessuno e così contraddirmi però quest'anno mi sento di segnalare proprio il momento della nostra inaugurazione che è alle 4 della domenica e del sabato 21 con live for all per cui l'influencer valentina tomirocchi la cantante giorgia meneghesso e la consigliera regionale lisa noia presentano il primo manifesto per eventi dal vivo accessibili quindi un momento storico io mi sento mi sento di dire quello sarà sicuramente un obiettivo bello che abbiamo raggiunto che siamo felici venga presentato proprio proprio domenica perché questo è l'argomento principale del del nostro festival sempre più tardi in quella giornata presenteremo un format ideato e nato insieme proprio alla fondazione mantovani castorina onlus che alla fondazione che sostiene fin dall'inizio questo questo festival una rubrica social che si chiama il mio modo di essere dove parleremo proprio dei luoghi comuni legati al mondo della disabilità proseguiamo la serata ho dovuto scegliere tra due ho scelto black blind and sightless marino mazzoni che è un batterista cieco da 20 anni e assieme alla sua band suonano bendati per cui sentiremo la musica come come la vivono proprio loro il giorno dopo è una giornata più teatrale abbiamo due grandi realtà della del territorio milanese e le compagnie malviste e minima teatraria con degli spettacoli tradotti in lingua dei segni lì mi permetto di aggiungere ancora qualcosa siamo partiamo in realtà domani dopo domani con due eventi per bambini due momenti da favola rami e radici al parco lambro di milano è realizzato insieme a run for inclusion che è una maratona che si svolgerà la domenica 22 settembre una maratona non competitiva per ogni tipo di velocità e che arriverà all'arco della pace e anche questa domenica invece col festival delle associazioni con la associazione nessuno escluso sono presentazioni di libri talk tutto sull'argomento e soprattutto molta gioia e molta felicità e molta festa ecco l'importante anche portare tutto ciò che sono argomenti anche di un certo spessore ma col sorriso con una leggerezza che non è superficialità dunque una rassegna culturale dove protagonista è l'arte resa accessibile vi ricordo il sito festival delleabilità.org ma siete presenti su tutti i social quindi vi seguiremo caro vlad in questi giorni dal 14 al 22 settembre a milano e faremo davvero il tifo per voi restiamo in contatto anche magari per altri progetti iniziative future perché appunto questi progetti come dire non non si parli di questo solo in determinate occasioni quando ci sono degli eventi ma davvero se ne parli tutto l'anno ti ringrazio di cuore per la disponibilità grazie a Vlad Scolari direttore artistico del festival delle abilità buon lavoro perché partite domani quindi immagino ci siano tante cose da fare devo togliere le cuffie e scendere in biblioteca a montare le mostre e scappare qui non solo direttore artistico ma anche come dire operaio grande 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 sempre ecco ciao grazie mille buon lavoro ciao grazie